Allora parliamo di generatori reali. Cominciamo a dire cos'è un generatore ideale. Un generatore ideale è quello che emette tra due punti dello spazio una differenza di potenziale e questo indipendentemente dalla corrente che lo attraversa. Un generatore reale per esempio qui ho disegnato una normale pila attaccata a una lampadina è sì un oggetto che emette una differenza di potenziale tra due punti ma al tempo stesso della corrente elettrica lo attraversa ed essendo un oggetto reale ha una sua resistenza interna. La resistenza genera una caduta di potenziale per cui se io voglio descrivere il funzionamento di un generatore reale devo pensarlo come l'insieme di una differenza di potenziale ideale e una piccola resistenza chiamata resistenza interna. Tutto insieme è il mio generatore che emette certe differenze di potenziale tra punti A e B ma questa differenza di potenziale cambia in funzione della corrente che lo attraversa perché c'è questa resistenza interna. Immaginiamo questo circuito un generatore reale, una resistenza e un interruttore. Con l'interruttore aperto, quindi il circuito aperto senza che circoli corrente, senza corrente non c'è caduta di potenziale ai capi della resistenza. Quindi la differenza di potenziale tra i punti A e B è uguale alla differenza di potenziale ideale del generatore. Se io chiudo il circuito, quindi a circuito chiuso, la differenza di potenziale tra i punti A e B è data dalla differenza di potenziale ideale meno R per I, cioè meno la caduta di potenziale dovuta alla resistenza interna. E la corrente I dipenderà ovviamente anche dal carico che è stato messo nel circuito. Questa differenza di potenziale dovuto al generatore reale a circuito chiuso è chiamata forza elettromotrice ed è ovviamente minore della differenza di potenziale ideale.